Benvenuti su Brewstars, ragazzi, vi voglio dire una cosa che se ieri non è uscito il video è perché io ero impegnato e poi un'altra cosa che ho fatto delle partite e ho sbloccato Barley, lui, questo Brawler intanto io mi vado a mettere l'osa che faremo un footbrawl, giusto, footbrawl faremo io con l'osa e speriamo che la vinciamo così otteniamo il gettone stella attenzione che si vuole rubare vuole segnale ma noi non lo facciamo dai gioca mi sa che ha laggato vai no si vuole fortuna ragazzi dai abbiamo segnato, perfetto ha segnato il primo che è una bomba e abbiamo vinto perfetto, più otto coppe un gettone stella, buono perfetto attenzione buono adesso faremo la pina che io mi metterò bibi no brocco e speriamo che la vinco sperando che la vinco attenzione ragazzi occhio che qua aspetta che acquisisco la vita perfetto perfetto stiamo vincendo dai che la vinciamo dai ah bello nooo comunque mi sono messo brocco perché pensavo che io i vabbè continuiamo occhio che qua dai alla tolle dai che quasi vinciamo si vuole ragazzi una botta di cura dai grande questa l'abbiamo vinta sempre più otto coppe buono un gettone stella adesso faremo una partita di arafagemme che io mi metterò bibi che sono forte con lei attenzione se un altro bibi no dai dai Dai, le gemme per andata Stanno vincendo loro Ho sbagliato a mettermi i bibi Aspetta che recupero vita Stiamo vincendo dai Comunque stiamo vincendo Grazie agli arteri Perché io sono scarso Che hanno vinto gli arteri Abbiamo fatto un lavoro di squadra Dai che vinciamo Perfetto, l'abbiamo vinta Abbiamo getto le stelle Dai aspettate che mi metterò Stavolta Ora faremo Brock Che in sopravvivenza Utilizza Brock In due Perché io in singolo Non ci so giocare Completamente Dai Ti stai aspettando Il lag Peccato Se è l'osa del cazzo Peccato La rifa Vabbè Mi metto sopravvivenza in singolo Mi metto sopravvivenza in singolo no brock del cazzo peccato abbiamo più tre coppe buono no il lago ragazzi niente sto perdendo tutte tutte vabbè amico sempre brock mi matto no 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 spero buono bravo come mi ha sconfitto come mi ha sconfitto no vabbè vabbè mi cambio bravo mi metto e mi metto i bino vi voglio fare vedere lui war deduction mi ti vabbè 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 visto l'ac del caso mi lagga sempre sto al primo del tavolo ma comunque ve l'ho fatto vedere la rifaremo sempre con lui ma sono quasi che sto sbloccando dai maic peccato mai seguì la dino maic adesso penso che mi metterò pipì che l'ho a livello 2 è forte no no vabbè non ci posso creare meno una coppa se lì proprio è davvero un po rompi mi killano sempre dai buono no 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 Sì, Sì, Sì! no no mi sa cosa licelli è una seguitrice ma dai ma non la colpisco mai a scelli ragazzi è il lag vabbè questa è persa ma un po di kill le ho fatte quindi più 8 buono se l'ho al grado 8 adesso apriamo qua adesso penso che il video è terminato qua mi manco il video è terminato qua lasciate il like qui sotto in descrizione iscrivetevi e mettete la campanellina e alla prossima bella